Allora ragazzi, sono io Vattro Kurama, oggi vi porterò il video dell'Elesis Ve l'ho promesso Dopo la Ter-Sage vi porto questa Perché adesso vi spiego perché Quel buffettino alla cresce potere è forte sia per lei che per l'Elzord Vi li porto tutti e due in caso E poi inizio con l'Elesis Quando andiamo in accresce potere, la signorina Quando lanceremo una skill non consumiamo le due Aure E questa è una cosa veramente forte per questa Elesis Perché lei potrebbe non avere problemi di consumo di Aure Per questo buff che gli hanno dato che è veramente la cosa più rotta del gioco Ma tanti personaggi la sfrutteranno bene questa cosa Come abbiamo, come vi ho detto nel video di Raven Come notate se noi andiamo in accresce Ritorniamo con 60 Quindi questa cosa è orocolato per questa classe Ma anche per le altre classi che sfruttano questa meccanica Come ho sempre detto sull'altro video Comunque questa classe ha un piccolo problema solo per la main skill Le due main skill che vedete qui Sono le due main skill Io ho scelto questa blu Però volevo testare bene i vari danni senza set un attimo Per vedere qual è tra le due la più utile delle due Tra la lossa e la blu Chi fa più danno sui tre varianti boss Allora passiamo prima di tutto ai cambiamenti Hanno cambiato prima di tutto Con questa balance Gli hanno cambiato l'attributo a questa skill E con quello che gli è stato ricevuto Ha avuto un danno critico del cataristo più 10 E poi sia questa che la mod Che vi sconsiglio di prendere Perché non è di prendere e di usarla Poi, 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 poi Gli hanno aumentato una passiva Che adesso vi faccio vedere Ops Questa qui gli hanno aggiunto un po' di attacco magico in più Poi hanno buffato In questa balance Questa che gli hanno aggiunto 5 danni Delle skill attive speciali Da 15 è passato a 20 Che non è affatto male, ragazzi Non butto via E... Alcune passive state buffate per il PvP Quindi non servono a niente Chi gioca a PvP Se volete ve le dico Hanno... Buffato Allora Prima fammele controllare Che non me le ricordo tutte Allora Hanno buffato Non è questa Queste due gli hanno dato per i PvP Un devasto 15 E un colpo critico 15 Quindi a chi serve Ve lo dico subito Queste sono solo per PvP Non per... Per dungeon È un peccato Poteva essere turbo sporcata, sì Però Hanno fatto questo Passiamo alle skill Che io ho messo a questa classe Allora Non è cambiata niente di build A parte... Allora Vi do un consiglio Questa usate la Preclear E la mod La non mod La usate contro i boss Perché Se notate Contro un minion Lei fa più danno Ma perché comunque È un singolo target Comunque è veramente forte Fa un debuff Contro un nemico La non mod è meglio Questa è forte quando C'è avrete tanti mob Dritti per chilerare Poi Passiamo sempre La crescipote... Ah cazzo Mi sono scordato Che non sono arrivato Al terzo livello Ok Poi abbiamo questa Che ignora le difese Del 20% Quando stiamo nella passiva Di Vanimani News Ignora le difese Del 40% Più Laura Rossa È comunque Una cosa in più Ricordatevelo È un 50% Ignora le difese Ambizione Poi questa Che è una riduzione D'anno E Rigenera Immediatamente Rigeneramento Immediato Di HP Quando Scendono sotto Una certa percentuale Di valore Poi Passiamo alle skill Della Q Questa che è veramente Forte È una bella lasciata Che colpisce Magnolia Che È veramente forte Tutte e due Le versioni Ve lo dico subito Questa è molto più Away Perché comunque La fate pure in aria Mi pare che la Magnolia Non mod Non fate per aria A volo Vedete Quindi È anche Una cosa in più La magnolia Mod Che la potete lanciare in aria E lanciarla È veramente forte Come cosa Poi Abbiamo questa Che comunque È un ottimo danno D'aria E poi abbiamo questa Che fa parte Dei skill Dei tempeste Che aiuta Un po' A chiarare Per il personaggio Per fare cose E adesso Passiamo alle sue Due main skill Che è Uragano E questa Io per ora Da Per ora Sul set Ho mazzato Uragano Ok Però io potrei Anche cambiare Idea Vedendo il danno Senza Cose Tramite La lotta Dei boss Vediamo I veri danni Che fanno Una delle due Allora Prima di tutto Vediamo i danni Della Mod Ok Passiamo Alla rossa Vediamo contro un boss Piccolo Quando fai Se mi metto vicino Quanto faccio Allora Ho notato Che Se il boss Colpisce Le parti Se notate Adesso ve lo faccio Rivedere Ok Guardate Quando il boss Io becco All'in mezzo Faccio più danno Di quello Normale E lui Con la cosa Della cresce potere Ha fatto Un pochino Di più danno Ok Per ora Sta vincendo Contro i boss Piccoli Lei Però Io per ora Sto più In fiducia Con un Uragano Ma non Perché L'altra Fa schifo Ma perché Eh Scusate Non avevo Notato Perché comunque Se notate Fa danno Se becco Bene I boss Ok Quindi se Non becco Bene È la fine Sto aspettando Che scade La cosa Della trascendenza Vediamo Questa grande Buono Dai Quasi Adesso vediamo I posti lunghi Là Sono del loro Pane quotidiano Queste due Che comunque Non è male Passiamo Da quella Rossa E poi A quella Blu Ok Ok Cataris È veramente Forte Ok Molto Forte Allora Io ragazzi Vi consiglio Cataris Lo farò Anch'io Per testarla Se volete Vi faccio Vedere Anche la Mod Ma Ragazzi Fidatevi Che Non c'è Proprio Nulla da dire È molto Forte Però Dovete Stare Attenti Comunque Cataris Fa questo Mod Che comunque Botta singola Non è Manco Male Dipende Dipende Anche Da Contro Gli altri Boss Come Saracavicchia Ok Ma Vabbè Dai Ci sta Vediamo Contro Il Lungo Quando Come Saracavicchia È quello Peggio Contro De Lui Però Dai Cataris Non è Male Allora Io vi consiglio Più Cataris Io vado Di Uragano Ma Perché Si Però Forse La Cambierò Devo Vedere Bene Come Se La Giostro Questa La Build Se Volete Se Avete Altri Allora Vi consiglio Queste Due Mod Per Aiutarvi Al Clear Perché So Delle Combo Assurde Con Le Mod Clearare Con Questa Fate Le Non perdete L'effetto Quello Sempre Ricordatevelo E poi Vabbè Vi consiglio Di Di Ogallaven Perché Questa Diventa Una Bella Classe E Per me È finita Ragazzi Non Nel senso Che Sono Morto Muoio E Tutto È Finito Il video Perché Non saprei Cosa Dirvi E Ci vediamo Un prossimo Video Che sarà Il Genesis Ciao Ragazzi Salve Ragazzi Oggi Vi porto Il Genesis Come Vi avevo Detto Nel video Del Del Elesis Vi portavo Anche Il fratello Perché Hanno Ricevuto Allora Loro Due Sono Coloro Che Sfruttano Al 100% Questo Rework Della Crescipotere Lui Lo 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 Sfrutta Bene Per il Fatto Che Ogni Volta Che Vai In Accrescipotere Recupera HPMP Che È una cosa Buona Ragazzi Fidatevi È una cosa Veramente Buona E Utile Poi Il Il personaggio Di per sé È stato Cambiato Solo Di una Passiva È un Botto Di Skill Tipo Lui Ha ricevuto Un buff Tone A una Sola Passiva Che è Questa Qui Un Nerf Questo Per i PvP Però Questo È il Buff Più Forte Perché Gli hanno Dato 4 stack A una Passiva Che Gli Buff Sia Attacco Magico Danno Delle Skill Che Le difese Magiche Fisiche È veramente Forte Poi Vabbè Riceverò Mi pare Un botto Di Nerf Un Nerfettino Ai Buff Mi pare Con l'ultima Balance Ah Sì No Gli Nerfano Rappresaia La mod Perché Gli dava Un botto Di Di Ignora Difesa Adesso Da 70 È passata Da 50 Passerà Quindi Occhio È un ottimo DPS Magico Ragazzi Vi dirò Solo Questo È un ottimo DPS Magico E State Pur certi Che questo Personaggio Farà Faville Ok Penso Che È L'Elzord Forse Dopo il K Il Più Forte Insieme All'immortal E gli altri Penso Che Gli Elzord Sono Quelli Veramente Forti Che Hanno Ricevuto Questo Baffettino Però Vi dirò Che Dovete Giocavela Bene Perché Il Personaggio È Veramente Tosto Per me Che Io Non Gioco Elzord Sono Più Un Lose Player È Veramente Forte Come Buff Allora Vi Pass A A parte Questo Buff Passive Hanno Cambiato Un Bot Queste Spell Questa Questa E Questa Questa Per il Fatto Di Un Danno Se Colpisce Un Mob Fa Più Danni Poi Poi Che C'è Mi pare Nient'altro Vabbè Queste Sono Le varie Skill Che Quando Vengono Potenziate Fanno Cose Poi Che cosa Hanno Aggiunto Che Questa Colpisce E Le altre Via Come Notate Abbiamo Un Bot Di Stack Poi Se Andiamo In Accresce Potere Abbiamo Anche Più Man Recuperiamo Man A Cazzarola Di Cane E Veramente Forte Come Cosa E Ragazzi Vi Faccio Vedere La Build Questa È Utile Per Un Motivo Per Le varie Stack Io Vorrevo Mette Questa Per L'ora Della Distruzione Perché Un Buff Anche Tutte Le Resistenza Al Gruppo Più 100 Non So Se Per I Ride È Veramente Forte Veramente Utile Quindi Non Saprei Se Consigliatelo Oppure No Questa La Build Che Mi È Stata Data Da Un Amico Che Giocava Molto Genesis Quindi Mi Sono Fidato Di Lui Per Le Build Perché Lui Era Molto Più Bravo Di Me Con Questo Personaggio Io Non Proprio Quindi Ho Dato più Fiducia A Una Persona Che Lo Gioca Più Spesso Di Me Che Io Che Non Lo Gioco Mai Poi Forse È Cambiata Quindi Potrei Controllare Anche Altre Build Allora Poi 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 Abbiamo Questa Che Comunque Fa Ottimi Danni Aiuta A fare Un danno Ad Aria Anche Ai Boss Lunghi Aiuta Un bel Po Di Il Personaggio Poi Revolution Che L'hanno Cambiata Per Vari Ed Infligge Dei danni Ad Avversari Vabbè Questa È Una Cosa Buona Poi Abbiamo La Solita Ambizione La Sua Skill Per Clearare Veramente Forte Questa Per Fare Danni Ad Aria La Potete Fare Anche Non In Salto Questa Vi Da Delle Sfere Casuali Che Permette Al Personaggio Di Dire Posso Giocare Come Voglio Ma Tanto Ho La Cresci Potere Che Mi Fa Rec Di Questo Poi Abbiamo Questa Sempre In Alto La Potete Fare O Anche Giù Vi Faccio Vedere Che Questa La Potete Fare Anche In Basso E Poi Le Sue Due skill Più Forti Da Giocare Triplo Geyser E Rappresaia Rappresaia Si è la sua main skill Quella che gli farà fare Il più danno Più alto Del gioco E Quindi È quella che Aiuterà All'intero team All'intero Personaggio Di fare danno Ora ve la faccio vedere In fatto Di boss Sempre Di pietra Con le varie Cose Con i vari Buff Attivi E Tutti Comunque Dovrò Sempre Perm Attivagli Perché Il personaggio Senza Questa Passiva Comunque Questo è Contro i Pass Piccoli Intanto Tendo A fare Buff Su Buff Perché Comunque Serve Non Stavo In Aura Rossa Che È Un male Su Sto Personaggio Perché I Danni Li vedremo Sull'aura Rossa Un attimo Che Sistemo I danni Ok Ecco Qui Danno Di Rappresaia Un attimo Che Sistemo Laura Mentre Faccio Il buff Questo È il danno Contro Un boss Grande Contro Quello Enorme Vedremo Dannoni Enormi 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 Come notate Laura Blu Aiuta Un sacco Al personaggio E adesso Vedremo I dannoni Con Laura Ah Cazzo Ho sbagliato Scusate Ragazzi Ops Non abbiamo Mana Ricopriamolo La cosa Più Forte Che hanno Mai Creato Su Sto Personaggio Mamma mia Non ha Senso Esiste Sta cosa Questi sono I danni Da boss Grossi Un attimo Che togliamo Riprendiamoci Buff Di tutto Ok E Ora Vediamo Contro i boss Lunghi No Questi E quelli Enormi Giusto Quelli Lunghi Un attimo Ritorniamo Un attimo A ripaffarci A rimetterci Buff E tutto Sto in Laura Blu In rossa Via Vediamo Quanti danni Fa Comunque Rappresaglie La sua Main Skill Dovete Buffare Solo Questa Non ha Altre Main Skill A parte Cioè Metterete Triplo Geyser Nelle Trascendenze Per aiutarlo A fare più Danni Per Anche Per Fagli Staccare Laura E comunque I suoi danni Pochi danni Li fa Triplo Geyser Quindi Mettetela Allora Ragazzi Questi due Personaggi Li metterò Insieme Forse Elzor De Lesis Per farvi Vedere meglio Quindi Ci vediamo Un prossimo Video Commentate Iscrivetevi E ci vediamo Un prossimo Video Che non saprei Cosa portarvi Ah si Le altre Due Lesis Gli altri Tre Lesis Gli altri Tre Elzor Ciao Ragazzi L'escrivetevi